Arriva Natale e come sempre sono molte le iniziative di solidarietà, ma questa volta ciò che ha reso davvero speciale la storia che stiamo per raccontare riguarda i protagonisti. Perché una piccola società calcistica della provincia potentina, l'ASD San Cataldo, seconda in classifica del campionato di eccellenza lucana, grazie alla generosità della proprietà e al senso di appartenenza dei suoi tesserati, ha voluto pensare a chi, più di tutti, soffre la distanza nel periodo natalizio dei propri affetti, ossia i pazienti del reparto di geriatria dell'ospedale San Carlo di Potenza. E allora anche con il contributo del consigliere regionale Dino Bellettieri che ha fatto mettere in contatto i dirigenti dell'AOR e la società, Babbo Natale per loro è arrivato in anticipo e aveva le sembianze del presidente e del mister di alcuni giocatori del San Cataldo che hanno portato in dono un televisore per la sala comune, oltre che altri regali. Insieme a tutti i nostri calciatori e alla dirigenza abbiamo pensato di fare questo omaggio in geriatria, pensando non solo ai giovani per lo sport ma anche alle persone più anziane, donando a loro un televisore per poter passare del tempo nelle giornate di giocenza qui nel reparto. Una delle tante belle iniziative che si stanno vivendo in questo periodo del Natale, delle feste che sono forse la più bella di tutto l'anno. È chiaro che noi siamo contenti come direzione, il mio direttore generale che saluta, e ogni giorno siamo grati alle associazioni che partecipano con noi a vivere questi momenti. La vicinanza ai nostri bambini anziani in un momento di festa si reputa fondamentale. La presenza, anche una pacca sulla spalla, potrebbe aiutare e aiuta sicuramente i nostri anziani. Ricevere queste attenzioni ci commuove, ci riempie di gioia perché ci rendiamo conto che c'è gente che pensa anche a noi.